Il pensiero fisso è quello di portare a Bari Gabriele Oriali, punta forte sull'ex dirigente dell'Inter Gianluca Paparesta per coprire il ruolo di direttore sportivo dopo l'uscita di scena di Guido Angelozzi. Idea affascinante e costosa ma che sembra non trovare avversari, visto che anche Daniele Dellicarri, l'ultimo nome circolato come possibile di esse, avrebbe declinato l'offerta di Paparesta per restare al Genoa. Così si va per esclusione cercando di capire chi costruirà il Bari della prossima stagione. Oriali, come ormai si sa da tempo, ha chiesto un progetto triennale a uno staff di primo livello. Se arrivasse lui come direttore sportivo potrebbe approdare in panchina Walter Zenga, visto che anche per la guida tecnica bisogna cominciare a pensare al sostituto di Alberti in scadenza di contratto. Nel Valzer di nomi però ci entra Roberto Breda, che con il suo latina in questa stagione ha fatto vedere i sorci verdi al Bari, due vittorie e altrettanti pareggi con l'annessa eliminazione dalla semifinale play-off di Serie B. Tra Breda e la società laziale il rapporto si è concluso e questo aprirebbe la strada per un possibile interessamento del Bari. Più difficile che sulla panchina dei Biancorossi possa arrivare Devis Mangia, ai saluti con lo Spezia ma comunque ancora legato alla società Ligure. Altro nome che era stato accostato ai Biancorossi in questi giorni frenetici, per la società che deve adempiere a scadenze importanti, ma anche programmare la prossima stagione con una vera e propria rivoluzione, che Paparesta vorrebbe affidare nelle mani di Oriali.